Voltiamo pagina e parliamo di un evento davvero da non perdere. Partirà domani dai quartieri spagnoli il Queer Festival, la prima rassegna teatrale napoletana dedicata all'esplorazione della cultura e di tutte le arti performative del mondo queer nell'accezione più ampia ed inclusiva del termine possibile. Ne parliamo proprio con i nostri ospiti e quindi do il buongiorno a Giuseppe Affinito. Ciao, buongiorno. Enziri, artista e DJ Queer di origine napoletane. Buongiorno. Giuseppe, un grande evento che vede ovviamente la tua direzione artistica e che ricordiamo è realizzato da compagnia teatrale Enzo Moscato e da Casa del Contemporaneo. Come nasce questo progetto? Ma intanto grazie per l'invito e fa piacere parlare del festival che è un'idea che comunque nasce da lontano, è un'idea che abbiamo cominciato a sviluppare più di un anno fa probabilmente con varie fasi ovviamente di elaborazione, di approfondimento. Nasce da un desiderio di fare arte innanzitutto perché comunque il mio canale è quello artistico e di provare comunque a lanciare un messaggio attraverso il mio canale che è appunto il teatro e ho pensato che sarebbe stato bello provare a lanciare questa iniziativa che comunque appartiene a moltissime persone, cioè io l'ho lanciata però raccogliendo secondo me il desiderio di una comunità intera e di provare a fare una rassegna in qualche modo multidisciplinare cioè che nella natura, nella forma magari si rifacesse anche ad iniziative che vengono un po' da altri territori, da altri luoghi, altre tendenze, quindi mischiando un po' i generi. E quindi partirà domani fino al 24 di marzo verso ovviamente i quartieri spagnoli, salassoli e altri spazi anche nel cuore di Napoli aperti e coloratissimi, saranno più che mai accoglienti, spazi sicuramente inclusivi soprattutto sganciandosi proprio da questo legame diciamo preesistente identitario riusciranno a parlare davvero tutti. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo momento insieme? Ma sicuramente sarà un momento di comunità in primis, credo anche di una ricerca di rappresentanza di una comunità appunto che non ha ancora avuto troppo modo di esporsi e di essere appunto mostrata, rappresentata soprattutto magari nella contemporaneità e nelle arti. Sicuramente domenica ci sarà appunto il mio live che presenterò con addirittura dei brani in anteprima in sala soli. Grazie Giuseppe per l'invito e porterò appunto la mia ricerca che è appunto una ricerca di un genere e una reinterpretazione di un genere come appunto il neomelodico in cui però viene, cerco comunque di trasformarlo e di dargli un contesto diverso. Quindi riarrangiato completamente? Sì, 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 sì. La mia ricerca praticamente consiste nel riprendere la chiave neomelodica e mantenendo comunque dei temi del neomelodico come per esempio anche solo il cantato e temi per esempio che parlano di amore e di passione anche tutto ciò che appunto viene utilizzato nel neomelodico, ma al contempo lo reinterpreto a livello musicale e dal punto di vista di tematica perché porto appunto, parlo di storie queer, parlo di identità fluide, parlo di persone che attualmente nel genere neomelodico non sono ancora state rappresentate, per cui questo per me è molto importante e oltretutto cerco di farlo portando anche la mia esperienza in quanto appunto persona, identità di genere non binaria e persona nata al nord da famiglia napoletana, per cui per me questo è stato molto importante, riappropriarmi del dialetto napoletano però mescolandolo con tutta la cultura per esempio della club culture che ho vissuto nella mia adolescenza quando andavo a ballare in Riviera Romagnola, Riccione, per cui tutta questa estetica per me che mi ha segnato moltissimo fa parte della mia ricerca diciamo. Ecco, l'apertura e il dialogo sicuramente guideranno l'intero progetto, quindi entreranno nel discorso di questo straordinario percorso nella cultura queer, anche importanti centri culturali, quindi i vostri alleati culturali come il Teatro Nuovo di Napoli, il Quartiere Intelligente, il Centro Studi sul Teatro Napoletano Meridionale ed Europeo, insomma questa cultura che fa cultura e questo non è scontato diciamolo. Assolutamente, è molto importante nella vita e nell'arte avere alleati, giustamente, ed è un'iniziativa che di alleati ne ha tanti e speriamo che ne avremo ancora di più alla fine, che comunque insieme possiamo immaginare di fare delle cose belle, di provare a costruire secondo me un futuro migliore. Non necessariamente più colorato perché poi i colori, come dire, sono qualcosa molto soggettivo, il colore tendenzialmente è tutta una prospettiva relativa. Però ecco, magari ridefinire un attimo i confini culturali dello spazio, dell'inclusione e magari far vedere anche delle cose artisticamente nuove che non sono ancora approdate proprio a Napoli. Quindi chi lo sa, magari può essere anche uno spunto per fare qualcosa di diverso. L'anno prossimo se avremo possibilità vorremmo aprirci molto di più, infatti anche ad artisti e artiste del territorio che provano a fare magari questo mestiere e non ci riescono, perché comunque la questione degli spazi è veramente molto importante. Ci tengo a ribadire chiaramente che non è un'iniziativa che vuole distanziarsi dalla comunità, da tutte le comunità, cioè anzi per me è porte aperte, perciò ci abbiamo messo anche i DJ set, la musica, perché credo che nella radice di festival c'è già proprio il significato di festa, quindi il movimento aggregativo più forte è quello in cui ballam probabilmente. Per questo abbiamo parlato di alleati in qualche modo, ma questo festival sarà soprattutto il palcoscenico di incontri di numerosi linguaggi espressivi che spaziano direi dal teatro alla danza, passando poi per la fotografia, per la musica, il cinema, tutte le atti performative, il design, la letteratura, veramente tutte. Tu sei un artista e sei anche un DJ queer ovviamente di origini napoletane, come tu hai ricordato, che però è nata e cresciuto a Ravenna. Come è intrapreso questa strada musicale? Da dove è nata? E ovviamente mi incuriosisce anche molto il tuo nome, no? Ziria? Beh, ho iniziato a fare musica che ero molto giovane, avevo probabilmente 17-18 anni, se non prima, le prime teste le ho iniziato a scrivere, che avevo probabilmente 14 anni, quindi per me è sempre stato fondamentale buttarmi dentro la musica e fare cose. E fin da subito comunque ho maturato un interesse sia per un'espressione più live, quindi concerti e quant'altro, sia per il DJing, diciamo, l'arte del DJing. E chiaramente ho intrapreso un percorso che appunto dura da più di dieci anni, ho avuto la possibilità di passare un periodo a Londra che mi ha formato tantissimo e che è stato un po' l'inizio, diciamo, della mia carriera artistica. Ed infine poi a un certo punto, in realtà è successo durante il Covid, in un momento in cui appunto le discoteche e tutti i locali erano chiusi e questo momento mi ha dato proprio un momento proprio per riflettere su cosa volessi fare per concedermi, diciamo, del tempo a questo progetto in Ziria, che era una cosa che avevo in realtà in testa da tantissimo tempo. E che non avevi poi mai il tempo effettivamente di realizzare e di concretizzare. Esatto. E che è capitato a molti, a molti artisti. Allora, ricordiamo ancora una volta insieme l'appuntamento che parte da domani fino al 24 di marzo con il Queer Festival. Noi ringraziamo veramente i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia questa mattina, a Mattina Live. In primis Giuseppe ha finito. Grazie mille. E poi in Ziria, grazie. Grazie. Pubblicità tra pochissimo con Mattina Live. Grazie.